Buongiorno a tutti, siamo dall'amico Enzo Francesconi dell'azienda lavorazione artigiana Marche dove siamo venuti a riferire alla nostra nuova campionatura per le scarpe da pilota per il tempo libero un nuovo prodotto, un nuovo progetto, un prodotto molto interessante adesso l'amico Enzo ci spiegherà un po' la sua arte, come l'ha costruito, come l'ha ideata Ciao Enzo Ciao, buongiorno a tutti, con il mio amico Ermanno abbiamo cercato di fare un prodotto che sia nel mondo dei motori, dei piloti di fare un prodotto che tenga un po' le caratteristiche dei soliti prodotti che vengono venduti però abbiamo cercato di mettere del nostro, come abbiamo cercato di mettere del nostro con dei prodotti morbidi, con delle solottine interne morbidissime con delle fodere di vitello, non fodere tecniche, in modo che non suda il piede quindi abbiamo cercato di fare tutti questi accorgimenti per dare al cliente finale un prodotto che sia anche una scarpa da portare tutti i giorni con le varie personalizzazioni questi sono degli amici del Giro di Sicilia è per il signore che si chiama Nino Presidente Nino Auccello ok, io sono da 35 anni che faccio questo lavoro i miei amici mi dicono che a posto del sangue mi esce il mastice i miei amici mi dicono tutti quanti questo qua e si vede, si vede arrivederci, ciao Enzo allora, salutiamo l'amico Enzo vediamo anche quest'ultima scarpa questa è quella che abbiamo fatto per la cara amica ritenunziata Presidente della Scuderia Giacquastorica è una scarpa anche questa molto importante anche perché sarà rivocativa nel 2017 del decennale della scuderia un saluto a tutti, grazie Enzo ci vediamo presto ci vediamo, salve